risotto nero di seppia gamberi no scampi spaghetti spaghetti all'aragosta ciughe acciughe salatte direte ma che cazzo stai dicendo gloria spiega mo amo amo spiega 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 perché freghi ogni volta che io salgo mi rubi la sedia scendi da lì scendi adesso mi siedo qua su questa sedia sto per tirarla è molto pesante sei una stronza perché è umile sedia guardatela c'è una ciocchina come l'hai ben cotta ascolta mentre mangio posso iniziare a guardarmi la puntata di combia ninja i combia 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 ninja allora stiamo andando a fare meditazione ed era questa la cosa che vi dicevo prima stasera vi porto con me stiamo andando in mezzo al bosco dove ho girato il video della modern geisha perché ciao perché stavano cercando cacchio era figo anche qua peccato che ci abitano perché rompono le palle vicini mamma e quindi stiamo andando in mezzo al bosco che è qua dietro e abbiamo portato tutte le cosine e facciamo meditazione facciamo in realtà quale quella del cuore quella del cuore non mi vedrete e domani la kundalini e siccome stasera c'è la luna piena e domani sera quella quella piena 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 giusto eh tipo questa è ancora un po' crescente tipo quasi piena e stasera si fa questa per iniziare a per ricevere e mamma quella che sa tutto domani per togliere domani per togliere e stasera abbiamo portato anche i nostri minerali perché facciamo la purificazione tipo dei minerali giusto? giustissimo ecco basta ciao ciao lei è Anna la mia mamma ah è buissimo non vedrete niente allora queste sono tutte le pietre di gloria che adesso insieme alle altre ciao ciao amiche ciao amici abbiamo acceso tutti tutte le candeline e quella è la luna semipiena oddio perché si vede così male mi sa che è un po' fuscato una cosa un po' e manca una fettina eh c'è anche Isa e adesso facciamo meditazione ciao io ho il mio non è proprio così meditazione mi seguite ti prego rifacciamolo cosa che hai detto allora adesso appena partito ma che canzoni ascolti Angel? eh perfettivamente allora si parte ci siamo e facciamo ma si può anche urlare qua perché tanto non c'è nessuno si parte con la sinistra sinistra prima in avanti tutta la canzone così non la schierta invece voi state dietro perché la luna l'abbiamo lì ok? quindi dobbiamo guardare la luna no no la luna di là voi state dietro senti un cazzo fai tipo la faccia tolker devi dire fammi essere la tua Jane fammi essere la tua Jane eh ma figa sto motoscafetto che palle anzi corri che idea di merda corri uh bello così no vabbè top rappa così ce l'hai nel sangue vedi ce l'hai nel sangue rap chapette rap le chap allora visto che sei troppo professionale non ti sei degnato di fare una ripresa per i tuoi vlog visto che la tua attenzione oggi è tutta per rovi faccio io questo pezzettino allora ciao iscritte di gloria siamo nel bosco e gloria sta girando un video a rovi e tipo è qui in mezzo lì e per arrivare lì praticamente è dovuta scendere da questo boh da questo pezzo tipo che in realtà non rende tanto nel video però è una discesa molto molto pendente e tipo sta strisciata qua scura è la culata che ha dovuto dare per poter arrivare lì giù vedete tipo il suo culetto che è sporco di terra io non so in questo punto gloria cosa direbbe però tipo è un bosco c'è l'acqua c'è la natura è molto wild e e nulla ora tipo gloria ci vorrebbe una musicata tipo non so come fa e nulla ciao gloria in versione videomaker io in versione stalker non so che vengo a darti una mano gloria sta sparando con la gopro o sta tipo segnando i prezzi al supermercato con quelli marchi ingegno lì che batte la pizia bar buongiorno e buon venerdì sta fuori tutto il giorno sono stata con la sorella di Andrea e che ho fatto delle commissioni mi ha accompagnato a fare delle cose praticamente avevo bloccato il conto cioè si era bloccato il conto online mi ha accompagnato in banca che ho dovuto sbloccarlo in sintesi e niente poi sono stata con lei ho pranzato con lei e adesso sono tornata che devo pulire casa perché è tipo uno schifo cioè la sabbietta da pulire per terra da lavare spolverare sbattere i tappeti far la lavatrice soprattutto Gloria che brava che mi sia ricordata la lavatrice perché domenica non andrò a giocare a soft term dovrò lavare la mia roba perché gliela presto il pantalone almeno della mimetica la divisa la presto a Roby perché ieri infatti avete visto dei piccoli frame delle anteprime che non volevo svelarvi troppo perché vedrete tutto poi online sul canale di Orbo e non vedo l'ora davvero perché questo video sta già venendo una bomba e mi piace tantissimo e sono veramente proud of myself sicuramente quando sarà pronto ve lo dirò e vi metterò magari un trailer un qualcosa anche sul mio canale che rimanda poi al video stesso quindi sul canale di Roby di Orbo la canzone è tipo power cioè mi è entrata in testa fin da subito da quando l'avevo ascoltata cos'è un mese e mezzo fa appena l'ho risentita in questi giorni che poi abbiamo iniziato a montare tutto a registrare quindi mentre registravamo c'era il playback gli ho fatto fare tipo 800.000 volte i playback perché volevo varie angolazioni in varie location ho tipo pensato a questa cosa e sta venendo finalmente come dico io io non ho la disponibilità economica di chissà chi quindi di videocamere super costose o chissà cosa cioè è tutto veramente cheap e cioè cheap nel senso che comunque non è che la reflex costa poco però comunque quella che ho io rispetto comunque alla tecnologia va avanti rispetto alle cose che ci sono in giro è un po' diciamo retru e quindi l'HD non sarà mai come le cose di adesso quindi adesso mi cambio pulisco e ci vediamo magari dopo buonasera ho passato tutta la giornata a pulire come vi avevo detto ho pulito tutto il balcone l'ho sistemato per domenica che farò la festa quindi almeno abbiamo ho liberato cosa abbiamo abbiamo un po' di spazio per la festa e ho liberato tutto il balcone e Andrea è tornata ha fatto da mangiare mentre io stendevo le 800 lavatrici che ho fatto oggi e c'è il volume altissimo lo so perché quando ogni volta maniamo non ti sento niente ha grigliato la cipolla ha fatto i cosi gli hamburger e ciao gloria i cosi come che si chiamano amore wistel wistel questi qua sono i miei vegani vegetariani scusami esatto l'uovo sono vegetariani sono fatti tipo di verdura e uovo con i panini quello di Andrea sono i wistel normali con la senape la cigola vero ti sei fatto anche l'insalatina e adesso mangiamo quindi buon appetito pini ciao ciao pini ciao buon appetito anche se la sottoscritta è stanchissima stiamo per uscire amore ciao guardate chi c'è qui ehi cosa ciao ciao non è meglio che si chiacchiera una coccolona eh cos'è che è un si grazie cos'è che è è un camperamion è un camperamion è un camperamion un camperamion grazie Andrea volete una Fisherman Friends la carabella più forte che c'è ma c'è scritto Fuffè ma Fuffè Fisherman Friends ma adesso lo guardo ho visto Fuffè c'è scritto guardate cioè dai cavolo ma si vede che si è girata anche dentro perché mi pungi anche dentro ma cosa c'è anche lì buonasera siamo appena tornati io in realtà stavo dormendo in macchina durante il tragitto del ritorno ed è stato un sonnellino molto piacevole di pochi minuti che cucina e niente ci tenevo a darvi la buona notte no non è vero ci tenevo a darvi la buon fine week weekly vlog oddio si è iniziato a sbiascicare sono molto stanca e Andrea vi salutiamo speriamo che questo brevissimo questa brevissima settimana come sempre vi sia piaciuta ci vediamo domani per me settimana prossima e niente un mega bacione ciao